Buonasera da Michelone, buonasera a tutti i belli e brutti da Michelone, da Michelone. Certo che questi giornalisti qua, che schifezza, che schifezza ragazzi! A pur di dare addosso a qualsiasi giocatore a fare i loro sporci comodi, non hanno nessuna remore. Adesso hanno preso di mira sto barella, che per me il ragazzo, quando poi minaccia querele vuol dire che... a parte che c'è un giornale, la verità, la verità, la verità ti fa male, lo so! Quando lo dice solo magari un giornale è un po' dura, se no sarebbe venuto fuori in tutta altra maniera lo scandalo, lo scandalo barella che scandalo poi non è stato perché... secondo me non è vero, secondo me quello di barella. Quell'altro ovviamente i nomi non li fa perché sicuramente li avrà finiti. Tutte queste cose che vengono fuori sono dalle presunte fonti di lui che sparano solo cagate per questi qua, no? Tutto a palle, tutto a palle, no? Anche se dietro c'è ovviamente chissà quanti nomi che avrà la procura, quanti nomi, quanti nomi ce ne avrà dietro, ma ovviamente a loro interessa solo certi nomi, solo certi nomi, no? Comunque ecco il caso, quel caso Allegri perché uno mi ha rimproverato, mi ha rimproverato, mi ha detto informati meglio, informati meglio che quel video lì era del Covid, di fatti l'ho detto, caro il signore, di fatti l'ho detto, di fatti l'ho detto, spero che non sia vero, spero, non per lui, perché di lui, vi ripeto che non me ne frego un cazzo, ma per la Juventus, spero che non sia vero, sennò saremmo andati e ci avrebbero triturato, triturato. Pare che quel video, come dice anche il Sergio, sia di quell'anno lì che era senza contratto, che c'era il Covid, quindi tutto dovrebbe decadere, le voci sono infondate, anche perché Allegri è troppo furbo, cioè fa giocare la Juve di merda, è quel che è, però è troppo furbo quello lì, quello lì non si fa beccare come certi new round, come certi new round, no? È troppo furbo quello lì, non va a perdere soldi, a farsi beccare con le mani nella marmellata. Allegri è troppo furbo su quelle cose, ragazzi. Comunque decade la questione Allegri, Barella era tutta una fake, però sono contento del fatto che il governo Meloni, company, lì il governo Meloni, fratelli d'Italia e chi più ne ha più ne metta, ha chiesto le dimissioni di gravire. Ha fatto un bel comunicato, ha detto per tutti i fallimenti, dalla non qualificazione mondiali, passando per il dopping, poi il calcio scommesse, adesso che l'Italia ha perso con l'Inghilterra, perché hanno paura che l'Italia, hanno paura, hanno paura che l'Italia non vada anche agli europei sarebbe un fallimento proprio di quelli epocali. Va bene che il fallimento c'è già stato, il fallimento c'è già stato dal 2000, dai tempi di Ventura fino ad adesso c'è un fallimento continuo. Hanno paura ancora di altri fallimenti, li hanno proprio elencati, tutte le schifezze di gravina, e li vogliono fare il culo, il governo li vuole fare il culo questo qua, ma ha ragione, ha ragione, perché... e prendevano per il culo quello lì, ricordate quello lì delle banane lì, come si chiamava lì, quello vecchio, il cicciotto lì, prendevano per il culo quello lì, no? Qua invece se proprio non ho toccato il fondo, se proprio, no? Cioè no, penso che la FGC, no? L'Italia in generale lì, calcistica sta su, sta su in Europa solo per leccaggio di culo, perché gravina e il lecca a piedi di ceferi, no? Poi l'altro lì è molto leccaggio di culo per gli europei lì del 2000 e ciapa, del 2000 e ciapeli, no? Tutto per leccaggio di culo sta su questo, l'Italia calcistica, perché se no... se no... speriamo che gli facciano il culo questo gravina, perché merita, merita, anche perché è un prescritto, è un prescritto, quindi merita che gli facciano il culo. E poi c'è questa questione lì, ovviamente si sa perché stanno facendo pressione sulla Roma, no? Adesso stanno spulciando tutto quanto sulla Roma dal 2017-2018 fino ad oggi per scambi di giocatori, addirittura sono stati e stanno indagando su pallotta tutti i spostamenti che ha fatto fino ai Fredkin qua adesso, perché per gli scambi di giocatori, no? Eeeh... Roma, attenzione! Roma, attenzione! Romani scandali, eh? E soprattutto in quale caso stanno indagando? In quale caso stanno indagando? Uno, due, tre... Spinazzola-Pellegrini, lo scambio Spinazzola-Pellegrini. Ovviamente sono incentrati su quello, no? Perché sennò, beh, ovvio, no? C'è la Juventus, è sempre la procura di Torino, no? Torino, Torino, che fa pressione su quella di Roma. E quelli là non vogliono mollare, quel chinè, ragazzi, quel chinè non molla, non molla, non molla. Quello vuole a tutti i costi. Per quello io nell'altro video, nell'altro video, parlavo, volevo parlare lì, parlare figuratamente con Elkan, perché Elkan non vedrà mai il mio video, non parlerà mai con me, però io cerco di parlare un po' così, di difendere questa Juventus, ragazzi, di difenderla. Ormai non sei più un ragazzino, tira fuori le palle, perché adesso è anche ora di finirla, è ora di finirla, tira fuori le palle. Non lo so come fate voi a quei livelli là, non lo so come fate voi. Io saprei come fare, però, no, facciamo perdere, però a quei livelli là, tira fuori le palle, Elkan. Non si può andare avanti così, non si può andare avanti così. Tira fuori le palle. Comunque, un po' di notiziole. Mi piacciono quelli che scaricano, quelli che scaricano. Adesso anche il Marotta lì, la Juventus è più attrezzata, non ha le coppe, lo Scudetto sicuramente lo vincerà lei. Pioli e la Juventus, perché tutti scaricano sulla Juventus. Ma che cazzo volete che vinca la Juventus con questa squadra qua? E con sto allenatore qua. Ma cosa volete che vinca la Juventus con sto allenatore qua? Fin quando non va via sto allenatore qua, voi non vedrete neanche la Coppa Italia in bacheca. Neanche una Coppa Italia. Non l'avete ancora capito, no? Fin quando non va via questo allenatore e arriva un vero allenatore e non si mettono le basi solide per fare, per ritornare ad essere una Juventus, almeno un po' di juventinità che c'era una volta, non si vincerà mai un cazzo. Ricordatevelo. Ricordatevelo. Quindi questo volevo dirvi. Iscrivetevi al canale, ragazzi. A proposito, dove è Zanga? Faccio sempre quella domanda. Dove è sparito Zanga? Vi dicono che sarà collegato da remoto. Adesso è venuto fuori la storia che non ci sarà neanche il 26 ottobre. Qui Gattacicova, qui cominciano a essere troppi giorni che quello lì non è presente. Vi ho detto, io ve l'ho detto, ve l'ho detto che quello lì sarà... Da quando è andato in Giappone? Perché lui ha debiti anche col Giappone. Lui ha debiti anche col Giappone. Lo sapete questo? Quello lì ha debiti con tutti. Quello ha debiti con tutti. Quello lì se lo staranno dividendo un po' la Cina e il Giappone, no? Un giorno te lo prendi tu, un giorno io, un mese tu, un mese io. Quello lì secondo me ha fatto una brutta fine. Vedremo. Magari veremo smentiti. Fra un paio di anni si presenterà dopo aver scontato magari... No? Ciao raga! Iscrivetevi al canale, sempre come dico io, al canale di Michelone e anche gli altri perché voi siete quelli che supportate i canali dei ragazzi, ok? Ciao raga!